Benvenuti alla premiazione della cinquantatresima edizione del Festival dei Popoli. Insieme siamo molto lienti di presentarvi Messier Tony Gatliff. Noi sono bavard, mi prevede, ma una notte di fiction per che possa raccontare, come un musicista, la linea della musica. E ho visto un giorno, in mia souffrazione, un piccolo libro che aveva scritto sui, Indignez-Vo. Ma io volevo vedere il suo film di Gatliff. Beh, un po' si è sconvolta dalla realtà che dormiamo tutti. Claudino Garé e Raymond Depardon. Il suo film è alla frontiera tra il documentare e la ficzione. Abbiamo messo il presente della presa di vista della Francia con tutti i bambini di film che avevo nella casa. Ecco. Avendo girato comunque il mondo e avendo visto tanti posti, qual è stata la scelta dei video da inserire poi in questo documentario? En fait, c'est là où la ficzione est un peu là, c'est pas moi qui choisi, c'est lui qui a choisi. E ti ricordo che, appunto, domani alle 11, il Instituto Franzese Cultura, ci sarà modo di parlare con loro ancora. Perché tutto quello che non riesci a vedere qua, che te lo devi andare a cercare in giro per vederlo, qui ce l'hai raccolto in una settimana. Quando io ero piccolo, mio padre mi parlava sempre di questo oncle in Algieria, che si è stato battuto per l'indipendenza dell'Algieria. Diciamo che ho cercato di costruire una memoria che parte da l'individuo per andare ai grandi eventi historici. Perché è un comune atlante, no? I film di video sono un comune atlante, si girano le pagine e si passa da un posto all'altro. Quindi i film non sono costruiti da scritto, sono scopriati da colpire elementi di idee, di parole, di pitture, di suoni, e scopriando questo in un po' che ha una sorta di struttura irrazionale e diventa una meditazione per l'audi, quando si è portato insieme. Sono due film su personaggi positivi, nonostante i contesti molto difficili. E' così che ho incontrato il libriale. E quando l'ho visto, ho visto Pasolini di Belfast davanti a me. Abbiamo invitato a fare un progetto cinematografico nel bairro della Bella Vista, nel bairro dove vive a Joana. E abbiamo fatto un casting, e nel casting ci ci ho accaluato questo personaggio che ci ho piaciuto. L'America è un posto che conosco, però il treno è fantastico, il treno è una forma di narrazione, un inizio e una fine, è una trama su rotaie. Alla fine mi sono concentrato molto più sul rapporto figli e sms, quindi ho cercato di togliere tutto il superfluo. Soltanto qualche tempo fa avere una serata così al Festival dei Popoli era per noi soltanto un sogno. Alla fine mi sono un poesia, insegnando sopra la pezza. Alla fine mi sono arrivato oggi, sto facendo vedere, ma è il mio preferito. Il terzo film in un po' e è davvero bello. Sopra è eccezionale e non mi aspettavo a guardare un altro film dal Festival dei Popoli. Tu stai in qualche modo ricercando la città di Taranto per raccontarla in qualche modo. Diciamo che il sabato e domenica, quando lui tornava dal lavoro, lo incontravo e durante la settimana per contavo Carlo, per mettere a fuoco la storia che questo personaggio portava al film. Poi volevo anche dire che in sala sono presenti gli eroi del film. La risposta per me è un concetto importante che è la perimetrazione, che può essere un concetto anche importante per tutto il cinema di ricerca. Parese mentira, ma a volte la camera inhibe, ma a volte permette che si parli di cose che senza la camera non si parli. Abbiamo lavorato con una compagnia di produzione di Belfast, che è diventata la compagnia maggioritaria, con una coproduzione francese. Ho l'impressione che forse il futuro dei documentari sia proprio su coproduzioni internazionali. E anche un po' il contributo lo dà il fatto che finalmente i filmmaker italiani guardano documentari, fatti degli altri. Nessuno si frega niente di Harold Pinter. Perché non fare invece un film sul disco? E ho detto d'accordo. Però ci sono anche tante spine sul percorso, in momenti un po' più bui. Ci sono delle piccole pietre ogni tanto che ti fanno credere che è possibile. E ho sentito in love con il festival di Popoli forever. Per me è un grande onore di ricevere questo award. E ho spero che il prossimo anno possa andare a spendere un'altra settimana con voi. Grazie. 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 Grazie.